Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video in cui vi voglio far vedere un accessorio per i propri controller sia per Xbox 360 sia per Playstation 3 che per Playstation 4 che per Xbox One. Questo accessorio si chiama AAA Shock che sarebbe un accessorio da aggiungere al proprio controller per migliorare la mira negli FPS quindi nei giochi di sparatutto quali Call of Duty, Battlefield e così via. Nello scorso video vi ho fatto vedere il control freak, c'è un'aggiunta all'analogico normale che permette di avere più mira durante appunto il gaming e per la recensione potete andare nel mio canale e vedere il video. Mentre questa volta vi faccio vedere questi erano i control freak, questi sono appunto i AAA Shock. Appunto questa è la busta in cui mi sono arrivati, una semplicissima busta di lettera, qua si è scritto direttamente il prezzo cioè 10€. E ve li consiglio anche rispetto ai control freak, perché mentre i control freak uno si deve abituare e ci sta un po' più di tempo per comunque migliorare la propria mira, con questi accessori, con queste gomme, specie di spugna perché comunque è una spugna potete vedere, la mira aumenta quasi da subito cioè è più facile adaltarsi. Ho comprato questa scatola da 10€, questa confezione, dove ci sono ben 6 a Shock, che sono appunto della marca Analogic AIM Assistance, il link del sito ufficiale ve lo lascerò in descrizione, da dove potete comprarli, anche se io comunque l'ho comprati da eBay. Allora, andiamo subito a vedere, la confezione ne contiene 6, che sono suddivisi in colori, cioè bianco, giallo e nero. Questo dipende dalla durezza di ogni singolo accessorio, infatti più è duro comunque anche dipende dalla bravura del giocatore, o comunque dalla sensibilità di questo. Facilissima l'installazione, infatti essendo una spugna, questa si può allargare facilmente installabile nel controller, come potete vedere. Beh, adesso questo migliora la mira perché? Perché comunque, scusate, perché comunque il raggio di azione dell'analogico è diminuito, e quindi questo fra si è appunto di migliorare la mira. Me l'hanno dato questi 6 più questi due arancioni, evidentemente si saranno sbagliati perché comunque quegli arancioni sono un'edizione limitata, che costa ben 15€, ma comunque, niente, sono grato di questo regalo. Come potete vedere qua ci sono delle piccole istruzioni e qua delle recensioni sui vari colori che potete trovare all'interno della confezione. E niente, ragazzi, vi riconsiglio ovviamente perché l'ho provato prima e ho notato comunque una facilità nella mira, nel giocare veramente assurda. Quindi vi consiglio, sinceramente, questi AA Shox. Niente, ragazzi, il mio video è finito qui, se ne avete altri da richiedere fatelo pure nei commenti oppure via messaggio privato. Ciao a tutti e alla prossima!